Salve a tutti ragazzi sono sempre un Redbox e benvenuti nel mio canale Oggi sono qui per presentarvi un insieme di funny moments che ha creato il grandissimo MrNoBest Che ringrazio davvero tanto in questi giorni di assenza lui mi ha creato questo funny moments Come diciamo speciale per i 50.000 iscritti quindi questo è uno speciale Arriverà al prossimo ma intanto gustatevi questi funny moments del mio canale Creato da MrNoBest che ringrazio tantissimo trovate il link del canale in descrizione Se voleste andarvi ad iscrivere mi fareste un grande piacere Detto questo vi auguro una buona visione Adesso la sigla Io c'ho un giocatore che sta fermo da inizio partita Guardalo Non mi ricordavo più come cavolo facevano i passi in questo gioco Eh perchè avevo perso la scarpetta ma la stavo cercando non la trovo E che hai visto la mia scarpetta oh adizio hai visto la mia scarpetta oh Eh ah c'è roba davanti a me Ah ma che fai oh Zuccaio che fa Sta stuprando i carcerati femmina Venga avete sbagliato Zuccaio Avete avesso una femmina qua dentro Zuccaio venga qua davanti Zuccaio Un secondo Ma che cazzo hai fatto la voce No te lo dico Ah 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 ora si che sembri Ermac Subito guarda qua ora cosa fa No 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 Guarda Aiuto Noi dalle nostre parti nascondiamo in un altro modo le macchine Venga qua la faccio scendere qua Ah ma no ancora vivo sono Ah a fuoco Ma dalle celle già siete usciti Fermi Non è vero non è vero io non sono uscito Fermi oh fermi uscite tutti Io non riesco a uscire Chi è che non riesce tu non riesci a uscire Allora Dima fagli vedere come si fa ad uscire E non sono uscito da qua Fagli vedere come si fa ad uscire da Ciro Allora è stato un piacere ragazzi Morerò perché non si può uscire da qua Allora lag sarà zio pecurino Lag è zio pecurino Zio pecurino vuoi sapere come si esce da qua Fai si con la testa Così si esce Che bella Ma la sve Ma quella è sembra ubriaco Ma che maglietta de merda Oh permesso Devo bere anch'io scusa Ma c'è il rosso Eh perché sono venuto già ubriaco Mi fai passare Posso sedermi in questa sedia Oh mi fai passare? Devo bere Oh ma bevo l'altra La bottiglia è mia la bottiglia Ma io bevo quell'altra Non si tocca la bottiglia Io bevo questo Dimmelo Vai Allora vai da Luke4316 E scrivi per favore Un altro video di pesca Quando lo esci Ridi sotto i baffi Ho detto che il mic è baffi È il mic reale allora Ma il mic non è Fatto Fatto Che è un'altra siciliana Non ci posso credere Sono siciliane Tonino Tonino ma perché mi porti solo le siciliane Ok gli scudi avanzano Vediamo se ce la facciamo A giocare a bowling contro questi scudi Piano Piano Vediamo se faremo strike Piano Dai dai che qualcuno va giù Ah ce ne ho messi un po' troppi Secondo me Vai nel canale che decidi tu Ascrivi Ciao sei bellissimo Vado sul canale di Lion Sul video di oggi Aspetta Ragazzi Allora dovete sfondare il video di mi piace Se dobbiamo fare un altro Io mi preparo prima le cose Per favore arriviamo tipo Scrivete nei commenti Scrivete nei commenti Che commenti dovrei scrivere Salve a tutti ragazzi Sono sempre Redbox Bentornati nel mio canale Oggi sono in compagnia di E non dice mai niente a nessuno Siete delle merde Ma siete delle merde siete Ma io aspettavo per dire Salve ragazzuoli Ciao Ed io di solito lo faccio dire Volevi fare la intro Volevi Entrate Ma cosa stai facendo Dai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.